11 novembre 1821 Nasce a Mosca Fedor Dostoievski, uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Durante il regime zarista è accusato di associazione sovversiva e condannato a morte. Mentre si trova già davanti al plotone d'esecuzione, gli viene comunicata la riduzione della pena ai lavori forzati perpetui. L'avvenimento lo segna per la vita e gli ispira le riflessioni più amare dei suoi capolavori.